Ciao, il mio nome è Silvia Cusada, sono un odito di classe 6, mi sono internata a FLAG come classe 4 e ho fatto classe 5 a FLAG. Ho fatto 3 CLEAR e sono arrivata in alto al ponte nella parte del processing fino al nuovo OT7. Un anno fa ho lasciato pubblicamente la chiesa di Scientology, non ho lasciato la tecnologia ma mi sono divisa da un management che reputo Squirrel, in quanto non segue la tecnologia originale del fondatore, Erron Hubbard. Voglio farvi sapere che anche se vi viene detto nella chiesa che se dovesse uscire non avete più il ponte, questo non è vero. Conosco tutti i materiali, fino a OT7 e vi posso garantire che ci sono tutti fuori. Non solo, ci sono persone altamente addistrate, persone che fino a poco tempo fa al vivano ed erano top auditor a FLAG e sulla free wind che sono fuori nel campo, disposti a portarvi fino in alto al ponte. Ci sono tutti i materiali fuori per poter fare Scientology in modo originale. Ci sono decine e decine di vecchi amici di Ron, di vecchi auditor che hanno audito e sono stati addestrati con Ron, che sono fuori perché si sono ribellati all'alterazione della tecnologia. No, non sono soppressivi come vi vogliono fare chiedere. Sono persone fedeli a una tecnologia che si è usata correttamente da libertà e abilità. Ricordatevi sempre che quello che dice Ron Hub è se non è vero per voi non è vero. Vi dà libertà di scelta e di pensiero e vi chiede usando la serie dei dati, vi chiede di guardare, vi chiede di informarvi, vi chiede di paragonare, vi dà il modo per conoscere chi è Scientology. Quindi, se state ricevendo dell'addestramento, se state facendo qualsiasi cosa in Scientology che non vi aiuta nella vita, che non vi fa sentire meglio, realizzate che non è Scientology. Realizzate che forse è meglio che si possa mettere in atto mantenere Scientology in funzione. C'è solo un fondatore e applicando la tecnologia si può aiutare la gente. Se c'è qualsiasi persona di voi, anche in modo confidenziale, che vuole più informazioni o che ha bisogno di aiuto, io sono qui. Io e centinaia e centinaia di altre persone. Parliamo l'inglese, l'italiano, il francese, lo spagnolo e tante altre lingue in tutto il mondo. Mandateci un'e-mail, scriveteci, contattateci e siamo qui per aiutarvi, perché crediamo nella tecnologia e perché vogliamo che Scientology sopravviva intatta, come il fondatore l'aveva originata. Vi auguro una buona giornata e spero di sentirvi presto. Arrivederci. Ciao. Ciao.